Quello non è neanche spoiler E appunto, io ho esperto Mi sto riferendo ad un'altra cosa Da 100% al zero in un colpo solo E dopo questa io chiudo il gioco e vaffanculo Non ci credo Cambiamo, cambiamo, facciamo qualcos'altro perché mi sgirano i coglioni Da 100% al zero, si può così dai Non ci credo Cioè, in Doom normale, da quella situazione, subivi danno Ma ne uscivi Così proprio neanche il tempo della reazione ha avuto Hai 100% di vita eh Si, a saperlo entravo direttamente, col mister cominciavo a sparare Eh Ecco perché Brutal Doom devi giocarlo quando conosci già il WAD già in base E sai le trappole